Tra le 150 aziende preesistenti rispetto all'Unità d'Italia premiati a Roma nello scorso giugno c'è anche la Busatti Tessute di Anghiari. Un riconoscimento importante, ne parliamo con l'amministratore delegato Giovanni Sassolini. Sì, è stata una piacevolissima sorpresa, non mi aspettavo di essere tra i pochi italiani. Praticamente siamo uno per provincia e ci hanno dato questo bellissimo riconoscimento a Roma. erano presenti ministri, poi il presidente di Unione Camere e soprattutto la Cucinotta che non guasta, che ci consegnava i premi. Eravamo tantissime aziende, lì ci siamo riconosciuti e abbiamo capito l'importanza di avere radici comuni, siamo diventati una specie di club con del DNA in comune, ossia gente che ama le proprie aziende, che insiste anche in tempi difficili su questo percorso. Avete portato l'ustro oltre che a Anghiari, anche a tutta la provincia di Arezzo e la Valtiberina? Siamo contenti perché qui come Valle del Tevere eravamo gli unici a rappresentare la vecchiaia delle aziende, insomma, ecco la tradizione. Busatti Tessuti è ormai un marchio di garanzia, oltre che di fabbrica, dal 1842 come azienda di tessuti, come azienda invece vera e propria dal 1797. I nostri vecchi busatti vennero qua alla metà del 1700 e prima fornai, poi bottegai, poi cominciano ad essere industriali verso la metà dell'800 e quindi è piacevole portare avanti questa bandiera. Ma la cosa bella è che ci difendiamo nel momento della globalizzazione, in momenti veramente difficili, riusciamo a stare sul mercato proprio portando la bandiera della qualità e facendoci riconoscere per il buon gusto.